Diciamo di pacificazione e va avanti bene. Noi abbiamo visto che il PD in totale crisi si è preso il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, ha votato assieme a noi il Presidente della Repubblica, che però è un uomo di sinistra, ha il Presidente del Consiglio, come partito in crisi non c'è male. È un partito in crisi però assatanato di potere, come ho già avuto modo di dire. Noi siamo stati molto più seri, avendo preso le ultime elezioni, praticamente gli stessi voti del Partito Democratico, come posizioni di potere siamo stati a bocca asciutta, poco male, perché noi puntiamo al programma, puntiamo a realizzare il nostro programma sull'INU, sui giovani, sulla riduzione della pressione fiscale, sulla riforma totale di Equitalia, sulla riforma della giustizia. Noi siamo il partito del programma, vogliamo realizzare il programma, qualche posto di sottosegretario ce lo daranno, spero, ma noi non siamo, ripeto, legati alle poltrone, siamo legati al programma, a realizzare il programma, però chi tocca il programma muore.